La Toscana rinnova il proprio impegno nella lotta alla violenza di genere che ha il suo cuore pulsante nel numero 1522 collegato a 24 ore su 24 con la rete dei centri antiviolenza a cui le donne possono rivolgersi per chiedere aiuto. La vicepresidente della regione Monica Barni ha presentato la nuova campagna che quest'anno coinvolgerà anche le catene della grande distribuzione dove si troveranno locandine, manifesti informativi, culmine il 25 novembre, giornata internazionale delle Nazioni Unite contro la violenza sulle donne. Questa campagna informativa è un tassello di un grande lavoro che la regione toscana sta facendo sul tema del contrasto alla violenza di genere e la violenza sulle donne. Un contrasto che parte dai temi dell'informazione, l'educazione e poi il sostegno appunto alle vittime della violenza. Dal 14 novembre al 14 dicembre la campagna sarà presente anche sugli autobus di linea, sia urbani che extraurbani e poi sui treni regionali perché i numeri della violenza, spesso nascosta tra le mura di casa, anche in Toscana, sono impressionanti. Negli ultimi dieci anni in Toscana ci sono stati 101 femminicidi. Questo significa che anche in Toscana gli uomini non solo picchiano le donne ma le uccidono anche. Al numero 1522 rispondono operatori in grado di parlare in italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo. La regione, sul proprio sito istituzionale, ha dedicato alla campagna contro la violenza una pagina con materiali informativi.